Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi nuovo video haul un pochino diverso dal solito, poi fatemi sapere se vi piace anche strutturato così ma dato che non era gigante l'haul, l'ho deciso di fare un po' più il relax ecco, intanto vado a tirarmi dietro i capelli perché mi sono svegliata da poco è venuta la mia vicina a portarmi la briochina, abbiamo bevuto il caffè insieme e adesso vado un attimo a detergere il viso anche perché stanotte mi stava uscendo un brufoletto qua e nella mia vita sono cambiate tantissime cose raga, da un giorno all'altro spero di raccontarvele un giorno, adesso non posso perché vabbè ci sono delle cose non concluse del tutto e non voglio parlarne pubblicamente prima che si siano effettivamente concluse comunque è successo un burdello, non ero pronta che accadesse, sono un po' in crisi missica e aspettate, prendo la schiuma intanto vado col bubble double di Iepoda e volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi cioè in realtà a volte lo faccio però magari non abbastanza perché grazie a voi comunque sono anche un po' più serena se no penso che in questo momento sarei veramente tanto 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 in crisi e invece accendere la videocamera, mettermi qua a registrare mi dona una pace interiore che non potete capire quindi io vi ringrazio tantissimo tantissimo adesso andiamo ad applicare dei Miss Ev poi tra pochissimo cominciamo subito col video ve lo giuro ma c'è una cosa che mi serve nella skin care quindi volevo farvela vedere in azione e lo prendo nuovo perché l'avevo finito tra l'altro vi ringrazia anche Iepoda in questo video perché tra poco al giorno del ringraziamento in Corea il Chuseok, spero di averlo detto giusto e quindi per l'occasione vi lasceranno anzi mi lasciano da dare a voi un codice sconto pazzesco e se arrivate a 69 euro vi regalano anche il contorno occhi quindi direi top loro vi ringraziano, io vi ringrazio, vi ringraziamo tutti no, per te scherzi io davvero, davvero in questo momento mi siete più di aiuto di quanto possiate immaginare proseguo con il siero delle impurità crema giorno e adesso cominciamo ad utilizzare le cosine che ci sono all'interno di questo pacchettino di skin ho fatto io l'ordine e tutto quanto e ho preso questo cosino qua che è quello per applicare il contorno occhi la pallina è in metallo quindi è bella fredda vi giuro, non so, ma la volevo da un botto e non volevo comprare un contorno occhi con l'applicatore in ferro perché tanto, cioè, io ho già i miei contorno occhi quindi utilizzo l'oro non so se, ok, forse era meglio vado a prenderlo col dito lo metto e poi andiamo a stenderlo con la pallina l'effetto è super freddo molto bello mi serviva, raga forse dovrei mettere un po' più di crema comunque ok il suo effetto lo fa pagato tipo un euro direi super approvato già che ci siamo andiamo ad applicare anche lui che mi è arrivato da poco The Spot Stop sopra il brufoletto ne metto un pochino così così intanto che siamo a casa lo lasciamo lì a fare effetto ha un profumo che sinceramente a me piace un sacco di T3 non so se c'è all'interno sì, infatti c'è il T3 si sente un sacco io uso un po' gli oli essenziali per casa e adesso andiamo a sciogliere i capelli proseguiamo con il video haul ho preso queste forcinette sempre sushino ovviamente pagate tipo un euro forse meno 70 centesimi dopo guardo e sono fatte così con tutti i brillantini adesso proviamo a metterle perché almeno mi rimangono indietro i capelli ma in maniera un pochino più carina si vede che non uso mollettine di questo genere da tipo una vita e mezza altra cosina che ho preso è lui praticamente è quello per pulire le soviglie con il pulsantino per far uscire il detersivo adesso andiamolo ad aprire no forse se sì, così? sì, ci sta? il detersivo dei piatti io vabbè vado a riuscirlo forse è un po' tommaggio vabbè vediamo vediamo ok chiudiamo qua e vediamo se esce ok ok sta uscendo guardate che se premo vabbè testa in giù esce vediamo se se lava bene la pentola adesso sono curiosa facciamoli scendere un pochino ok secondo voi mi rovina le pentole questa setola no dai non credo tanto io le do una passata e poi le metto in lavastoviglie tendenzialmente secondo me potrebbe starci dalle belle setole che rimuovono lo sporco belle pesanti consumate la metà del detersivo perché io questo di solito lo spruzzo tutto o dove siete qua sulla spugna e poi continuo a riutilizzarle invece così secondo me è approvato ho preso anche per la prima volta un prodotto skin care su Shein anzi no ho preso uno struccante tempo fa vabbè ho preso questa maschera per i piedi perché era in offerta e perché io oggi devo fare un video su dei calzini che sono dei calzini ortopedici tra l'altro voglio troppo provare per vedere se effettivamente allievano allievano già faccio comunque ho preso loro e direi che le mettiamo subito le testiamo immediatamente step 1 ah devo lasciare i piedi 15 minuti nell'acqua calda ok step 2 mettere la maschera e step 3 massaggiare i piedi e poi va rimossa oddio forse non è il giorno giusto per usarla ok no avevo il sospetto sono andata a cercarla ho preso quella che ti esfolia proprio i piedi quindi dovrebbe andare via proprio tutta la pelle facciamo così non mi sembra il caso sinceramente prima che poto fare il video pomeriggio per dei pezzi di pelle la stampa magari non succede niente però però fatemi sapere se volete magari in un altro video la facciamo e poi vi carico tutti i video insieme dove si vede se funziona o no ci sta scusate volevo farla ma non mi ero ricordata questa piccola cosa poi proseguiamo ah proseguiamo facile questa l'ho presa su Shein perché la mia originale Apple si era raga disintegrata ma proprio malissimo quindi ho preso questa e poi ho preso anche questa qui che sincera è un pochino più brutta è proprio in plastica plastica mentre questa è tipo in silicone ha le foglie lucide e sono in 3D praticamente copre anche molto bene tutti i tasti come vedete anche sotto è tutta chiusa anche lei in realtà si apre qui mentre l'altra essendo in silicone non in plastica dura è proprio tutta però devo dire che le fanno molto bene adesso coprono tutto il telefono prima li facevano solo così rimaneva sempre aperto lì sotto dove rischiava di rompersi poi proseguiamo con una cosa che non utilizzeremo oggi perché sono queste cose qua però secondo me potrebbero essere utili un botto perché hanno il gancio in silicone cioè hanno l'attacco in silicone quindi non dovete bucare il muro mettete tutta la placchettina così e poi ci appendete il quadro secondo Walter quando è andato a toglierli si stacca anche il muro secondo me no cioè perché dovrebbe staccarsi tutto cioè poi può essere per l'amor di dio comunque se non volete bucare il muro questa è un'ottima alternativa così anche che si stacca il colore dovete solo ritinteggiare ma non dovete stuccare tutti i buchi quindi secondo me ci sta li ho presi perché in alcuni punti non abbiamo le porte scorrevoli e quindi non possiamo effettivamente bucare la parete sennò non scorre più la porta un'altra cosina che ho preso che non mi piace sincera è questa borsa avete presente quelle borse che vanno di moda adesso fatte così proprio belle no? che si chiudono c'è la tua borsettina io questa l'ho pensata con un vestito che è sempre in questo ordine quindi adesso lo andiamo a provare vi faccio vedere insieme come stanno allora questo è il vestitino che ho ordinato la borsettina che però vedete non so non mi piace non è non è fatta bene e questo è l'outfit che avevo pensato nell'insieme non è neanche malvagio questi stivali me li ha regalati Walter e non li ho ancora mai usati se non una volta in cui sono finite in un tombino e guardate il tacco 300 euro di stivali rovinati la prima sera vabbò devo portarli ad aggiustare comunque il vestitino invece mi piace molto trovo che sia veramente bello per l'autunno la borsa no fatemi sapere cosa ne pensate ma secondo me è proprio fatta male cioè vedete da una parte si gonfia dall'altra va giù dritta e si vede l'incastro della borsa è troppo piccola è quasi quasi più verso un quadrato che una non lo so non mi piace fatevi sapere però ovviamente anche cosa ne pensate voi ultima cosina di questo video haul lui di she glam è il correttore io l'ho già provato e devo dire che in realtà mi piace assai allora è fatto così io ho preso la colorazione sand io non so oggi ok si mi odia la macchinetta e forse ne prenderei una ancora più aranciata comunque porto lo specchio di qua ne metto un pochettino per farvi vedere la differenza cioè costa davvero una cavolata oggi ho provato a metterlo con la spugna umida di solito l'ho messo a spugna asciutta e forse era meglio si con la spugna umida non va benissimo perché vedete che va un po' a dividersi lo tolgo e lo mettiamo con la spugna asciutta tanto ne ho qua una ok riproviamo perché questi giorni mi è piaciuto un botto e se oggi non mi piace più giuro che mi incazzo perché non l'ho testato una volta sola voglio dire ok guardate con una sola passata cioè non ho messo la base non ho fatto niente ho messo solo il correttore l'occhiaia è già molto minimizzata avrei scelto un colore forse un pochino più aranciato però devo dire che la formula non mi dispiace è abbastanza secchina quindi sottomettete un un contorno occhi però una volta che l'andate a fissare vi dura tutto il giorno e non si sposta spugnetta asciutta perché con quella umida a quanto pare ha dato problemi ok adesso vado magari a fissarlo così lo vediamo già che ci sono uso la loro cipria così che sopra è bianca mentre sotto è quella colorata l'ho presa un sacco di tempo fa e andiamo a fissare il correttore ripeto cioè lo stiamo provando veramente alla cavola non ho messo nient'altro e questo è l'effetto finale a me non dispiace costa poco sceglierei giusto più aranciato e ve l'ho già detto carino carino sì ci sta ci sta forse va più senso farvelo vedere con il fondotinta e tutto quanto però vabbè devo dire che a me non dispiace va a migliorarmi l'occhiaia che comunque la mia è molto presente soprattutto in questo periodo e niente io spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia magari vi abbia dato qualche spunto per il vostro shopping la pallina per mettere il contorno occhi secondo me è top perché costa davvero pochissimo rispetto ad andare a comprarle effettivamente in negozio se vi piace un contorno occhi ma non ha l'applicatore in ferro che dà l'effetto fresco almeno avete risolto il problema poi che cavolo ah le cover le cover sono fatte molto bene soprattutto quella nera approvatissima il vestito mi piace un sacco questo lo userò tutt'autunno se sentite che il materiale non è dei migliori io solitamente vado a mettere sotto un canottierone in cotone in modo tale che uno mi tiene più caldo magari anche a manica lunga un po' scollato e due a contatto con la pelle comunque ho il cotone però questo taglio di abiti a me piace molto e niente vi ringrazio ancora una volta per il supporto che mi state dando senza neanche che voi lo sappiate però in questo periodo vi ringrazio tantissimo di esserci quindi adesso la smetto di parlare vi saluto e vi dico solo che molto probabilmente ci vedremo più spesso qua su youtube speriamo mi voglio bene ciao 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 ciao